Ok, abbiamo il passaggio principale, l'emergenza di contacto, l'hater di contacto per il termostato, due hater di solid state relai controlli da PLC, l'open and close damper, relai per l'uomo, relai per la pompa di umidità, relai per la pompa di disinfezione, livello sensore per il disinfezione, il contatto principale, metà di switch, timere per la porta di aprire, l'autorità di potenza, relai, solenoid valve for cooling, solenoid valve for humidity, relai for alarm, main power, power supply, auxiliary power, power supply, transformer for disinfection pump, humidity pump is 220 volts, disinfection pump is 24, but AC, not DC. . Fius!